Di nuovo buongiorno da Telefriuli, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale Capriamo con la scomparsa di Bernardino Ceccarelli a 75 anni e lutto nel mondo dell'economia e dello sport Il mondo dello sport e dell'economia sono in lutto per la morte nella notte di Bernardino Ceccarelli Aveva 75 anni ed era ricoverato da qualche giorno alla casa di cura città di Udine Nel 1977 assieme alla moglie Maria Rosa Zermano aveva dato vita alla polisportiva Libertas Martignacco Della quale era stato presidente fino a pochi giorni fa quando aveva passato il testimone a un altro imprenditore Fulvio Bulfoni Grande la soddisfazione per i risultati conseguiti negli anni fino alla storica promozione in A2 nel 2017-2018 Dopo aver mosso i primi passi nel settore come Fattorino nel 1979 aveva dato vita alla Ceccarelli Group Azienda leader nell'autotrasporto nazionale e internazionale Cresciuta mettendo al centro il rispetto e l'onestà due dei tratti caratterizzanti del suo fondatore Una realtà attenta all'ambiente e al territorio che della responsabilità sociale ha fatto un valore quotidiano Come amministratore pubblico aveva ricoperto per molte legislature incarichi nel suo comune d'origine e di residenza a Martignacco Ma anche numerosi ruoli nell'ambito delle attività economiche e della rappresentanza delle PMI Dalla guida del Catas a Confapi FWG Associazione di cui era stato anche presidente della categoria trasportatori Cavaliere ufficiale della Repubblica Italiana e Stella di Bronzo del Coni Dal 2012 era stato anche eletto presidente della Libertas regionale 40 anni di attività festeggiati nel 2019 In quell'occasione ci aveva raccontato come era nata la sua azienda Aprile del 1979 Io ero dipendente Dovevo decidere se ritornare a fare dipendente da un'azienda Sempre i trasporti che mi aveva cercato Oppure provare l'avventura di mettermi in proprio Ho optato per questa seconda soluzione E' andata bene Diciamo con le fatiche Anche i alti e bassi per l'amore di Dio In questi 40 anni Però diciamo Sono stati 40 anni belli all'inizio Molto concreti Perché da quegli anni là era proprio la voglia di lavorare La voglia di costruire La voglia di inventare Poi c'è stata la crisi degli anni 80 Però poi dopo l'85 è tornato a riprendere un po' il mercato E così alti e bassi Poi abbiamo superato la crisi più lunga di questo secondo secolo del 2008 Sono stati dieci anni lunghi Però in questi dieci anni di crisi noi siamo raddoppiati Oggi 168 dipendenti E' una giornata molto triste per la nostra società Scrive così in una nota la Libertas Martignaco Che stava per ricominciare il campionato Di A2 di pallavolo Dirigenti, staff, giocatrici Scrivono come il presidente Ceccarelli Sia stato un esempio in campo lavorativo e sportivo Un friulano vero Un lavoratore infaticabile Una persona di parola Una perdita infinita Ma da lassù sarai sempre la nostra guida Mandy Press Così si conclude appunto il messaggio Che gli hanno dedicato in questa giornata di lutto Rinascono le province Anche se solo nei loro loghi Infatti i nuovi enti di decentramento regionale Nati sulle ceneri delle UTI Riprenderanno gli stemmi dell'ex provincia Affiancati da quello della regione Friuli Venezia Giulia Gli EDR infatti ricalcolano praticamente in tutto Gli ambiti territoriali dell'ex provincia di Pordenone Udine, Gorizia e Trieste E su proposta dell'assessore regionale Roberti La Giunta ha deciso che affiancati ai vecchi stemmi Ci sia appunto anche il logo della regione Friuli Venezia Giulia La cronaca Un investimento mortale lungo la Trieste e Venezia Tra la Tisana e Porto Gruaro Intorno alle 7 di questa mattina Con la circolazione dei treni Che è stata subito interrotta Per consentire le operazioni di soccorso E le verifiche dell'autorità giudiziaria La situazione è tornata alla normalità Attorno alle 9.30 I treni in viaggio hanno registrato Maggiore dei tempi di percorrenza Fino a 40 minuti Mentre il Trieste Roma Delle 6.42 Ha registrato un ritardo Di 130 minuti Una gigantesca discarica abusiva È stata scoperta Nel comprensorio artigianale di Via Grimani A Trieste Il personale del nucleo di polizia ambientale Della polizia locale Ha scoperto In un'area composta da vari capannoni 10.000 metri cubi di rifiuti Tra il materiale sono emersi 300 pneumatici fuori uso Svariati metri cubi di amianto Barattoli di vernice Elettrodomestici Carcasse di automobili Batterie di veicoli In totale 4.000 metri cubi di materiale Sufficienti a coprire un intero campo da calcio Per mezzo metro di altezza L'indagine è ancora in corso E al momento gli investigatori Hanno iscritto nel registro degli indagati Due imprese Alle quali verrà contestata La gestione illecita del materiale In base alle norme In materia ambientale Rintracci di migranti 5 sono stati rintracciati a Orzano Nella tarda serata di ieri Intorno alle 21 Sono stati visti camminare a bordo strada Sul posto sono intervenuti Per primi i carabinieri Della stazione di Pulfero Della compagnia di Cividale Poi una pattuglia Della stazione di Remanzacco Si tratta di cittadini bengalesi Due dei quali minorenni Che sono stati affidati Al comune di Remanzacco A Lignano Sabiedoro Alle 10.20 di questa mattina C'è stato un intervento Per soccorrere Una persona disabile Che era caduta in acqua Si tratta di un 69enne Residente in provincia di Varese Ospite di un albergo Della località balneare Che si trovava In zona d'Arsena In compagnia del suo cane Ed è stato Finito in acqua Probabilmente a causa Di un tratto viscido Della rampa La squadra dei vigili del fuoco Di Lignano Aveva visto la scena Dall'imbarcazione Proprio davanti Alla rampa E ha portato Immediato soccorso All'infortunato Che è stato poi Portato Dai parenti Che alloggiano Nel albergo Non ha riportato Alcuna conseguenza Toleranza zero Sempre a Lignano Contro i furbetti Dell'ombrellone Ieri sera Il personale Della polizia locale Di Lignano Ha condotto Un quarto intervento Su tutto l'Adenile Gli agenti Hanno sequestrato Centinaia di oggetti Da spiaggia Lasciati impropriamente Sulla sabbia Tra il materiale requisito Nelle spiagge libere C'erano straio Giocatori Giochi gonfiabili Zaini Teli da bagno Sciugamani E altra attrezzatura E ora parliamo Dell'Anciuti Music Festival Di Forni di Sopra Per il quale È previsto Un gran finale Questo weekend Con grandi interpreti mondiali Degli strumenti Affiato Stato una rassegna Che sta crescendo Sempre di più Sia per notorietà Che per livello È stato il coro Del friuli Venezia Giulia Ad aprire ieri sera Le tre giornate clou Dell'Anciuti Music Festival 2020 Che fino a domani Trasformerà Forni di Sopra In una capitale Della grande musica Dopo il grande successo Del ciclo Dei concerti Al tramonto Che hanno valorizzato I borghi del comune montano La rassegna Sta vivendo il culmine Con la sezione Più specificamente Incentrata Sugli strumenti E antiche Docenti dell'Academy Che si alterneranno All'OBB Busson Cluster Tra i quarteti Di fagotti Più importanti Al mondo E siamo allo sport Stipe Perizza È volato ieri sera A Londra Per sostenere le visite mediche E firmare il contratto Che lo legherà Al Watford Ne da notizia Il canale web Dell'Udinese Che spiega Anche che a breve Dovrebbe essere Diramato il comunicato Che ufficializza Appunto La sua cessione Al club inglese Dei Pozzo Perizza Ha giocato Nella scorsa Stagione In Belgio Con cui ha messo A segno 8 reti E 16 presenze Restando In casa Udinese C'è una notizia Che riguarda Lasagna Che tornerà Appunto A vestire La maglia Della nazionale Per le sfide Di Nations League D'inizio settembre Gli azzurri Saranno di scena A Firenze Venerdì 4 Alle 20.45 Contro la Bosnia E poi in trasferta Ad Amsterdam Lunedì 7 Alle 20.45 Contro l'Olanda Fin qui per Lasagna Ci sono state 4 presenze In azzurro Tornando al mercato Intanto È stato ceduto In prestito Con obbligo Di riscatto Nicola Opoku Alla Mien Sporting Club Football A lui Vale in bocca al lupo Da parte del club Per la sua nuova esperienza Così Nella nota Della società Che ha appunto Ufficializzato L'operazione Direttanti Disaccordi E polemiche Anche se la data È fissata Il presidente Canciani Pareremovibile C'è chi non ha Apprezzato Le modalità Del sondaggio Con le società E crede che non ci siano Le condizioni Per partire 15 giorni Nella prima partita Il 12 settembre La data È fissata Per la prima Gara di Coppa Data Confermata Dal comitato Regionale Dopo il sondaggio Effettuato Tra le società Per capire Se ci fosse La volontà Di posticipare La partenza La maggioranza Tra coloro Che hanno risposto Ha detto no E dunque Si è andati avanti Così come si era pensato Tuttavia I problemi restano Così come le polemiche Di alcuni Presidenti Dissidenti C'è chi ritiene Non ci siano Le condizioni Per partire E per rispettare Tutte le norme Del protocollo C'è chi critica Le modalità Del sondaggio Un gruppo Di presidenti Inoltre Sta cercando Di riunirsi Per discutere La data D'inizio Della stagione Inoltre Alcune società Starebbero Applicando Delle quarantene Avendo dei casi Di positività Tra i calciatori In gruppo Ci sarebbero In particolare In questa situazione Un paio Di società Nell'Udinese E un paio Nel triestino Indiscrezione Che certo Non contribuisce A spegnere Le discussioni E a provare A partire Il presidente Canciani Dal canto suo Resta fermo Sulla sua posizione La data È fissata Ma resta Nonostante Il grande impegno Delle società Del comitato La confusione Su come attuare Il protocollo In alcuni punti E la paura Di iniziare Pare essere In alcuni casi Superiore Alla voglia Di partire Nella confusione Però nel frattempo Fioccano Le amichevoli Il fischio L'inizio è vicino Insomma Le certezze Ancora no Siamo qui Tra pochissimo Gli approfondimenti Di A voi la linea Grazie per aver seguito Il nostro telegiornale Grazie per aver guardato